Sono Giulio Bianchi, CEO di Midaco. Leaderform ha realizzato il planner della mia azienda. Non avevo bisogno di una serie di stampe digitali fatte in serie, ma di un supporto alle fasi del mio progetto. Da prima del suo inizio a molto dopo la sua fine. Hanno preso a cuore il mio lavoro e questo ha fatto la differenza. Leaderform. Extreme Digital Printing.